Manca ormai pochissimo a questa sfida di ritorno dei quarti di finale della Pool Scudetto L'Ostia Mare sarà impegnata sabato 31 maggio alle 16 al Comunale Paudice di San Giorgio e Cremano contro la Mariano Keller 2 a 0 nella gara di andata, analizziamo questa sfida di ritorno con Tiziano Rossetti che è uno dei ragazzi della Juniors di Mister Bellini Ciao Riccio Buongiorno Tiziano e benvenuto Grazie Tiziano abbiamo visto anche te e tutti i compagni insomma grande voglia, grande approccio in questa ultima rifinitura che scalda i motori in vista della sfida di ritorno Sì siamo pronti per affrontare il Mariano Keller, sarà una sfida difficile ma comunque proveremo a fare il risultato anche lì 2 a 0 nella gara di andata con le reti di Daniel Rossi di Palazzini su calcio di rigore un buon vantaggio ma sicuramente bisognerà entrare in campo con il pensiero di stare sullo 0 a 0 Sì questo qui è fondamentale perché comunque loro proveranno tutti i modi di schiacciarci e noi non dobbiamo farci schiacciare soprattutto nel primo tempo e usare le nostre caratteristiche comunque sono le ripartenze e andare lì e fare il risultato, quello che conta e soprattutto in una di queste ripartenze fare un gol che naturalmente incanalerebbe proprio verso la strada, verso le Final Four Sì sì sì, noi dobbiamo cercare di fare subito gol anche noi perché comunque per 1 a 0 a 1 per noi è difficilissimo per loro si dovrebbero fare 4 gol L'obiettivo dunque è arrivare in queste Final Four di Camaiore, il 5 giugno sarebbe la semifinale, il 7 giugno la finalissima incrociando le dita noi vi seguiremo naturalmente in questa sfida di ritorno che andrà affrontata naturalmente al massimo con mister Bellini Sì siamo prontissimi ad andare lì e giocarcela, anche il mister se mi chiamerà in causa io sarò prontissimo ad entrare in campo e dare tutto a me stesso, sputerò sangue quello che serve al mister Siamo carichi e siamo pronti Perfetto, allora in bocca al lupo per questa gara di ritorno al Paudice di San Giorgio a Cremano noi saremo con voi per tifare ossia e per brindare al conseguimento di questo risultato perché ci crediamo Crepi Forza ossia mare Sempre, grazie Ciao Tiziano Ciao, ciao